responsabile dell'organizzazione Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale che ci parla diciamo di tutti i contenuti extra oltre i dibattiti che vi sono stati raccontati. Alcuni dei contenuti extra che verranno presentati ad Atreio cercano di approfondire in parte anche quelle campagne che... ...tolinare il concetto e il fatto che Atreio sia sempre contraddistinta rispetto a più profonda della semplice attualità politica è un po' il tentativo delle mostre, gli approfondimenti letterari risponde a questa esigenza. Io ho da aggiungere un elemento che non è stato raccontato di Terzi, di Passere e di Monti e mi consenta di diciamo così di varicare la posizione di Passere e di Monti dalla posizione Giulio Terzi di Sant'Agata che è stata persona che come sa sulla vicenda dei due Marò e per il rientro dei due Marò in India quando i due Marò erano in Italia si è dimesso dal governo e che lungamente e ampiamente ha parlato della vicenda e continua a parlarne quindi mi pare diciamo così un atto di coraggio per un governo che aveva fatto dei danni e aveva fatto e ha fatto dei danni inenarrabili che sono alla base della vicenda. Io dicevo... Grazie 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 Grazie